Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo degli scarponi Mindel Tonale GTX, uno scarpone con una suola semirigida che mi ha convinto abbastanza, soprattutto per dei trekking abbastanza impegnativi, le quali adesso naturalmente vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Come al solito inizio a parlarvi del peso di questi Mindel, nel numero 42 pesano 530 grammi, nel mio 47 arriviamo attorno ai 700, è un peso tutto sommato decente, ci sono scarponi che naturalmente pesano meno, però per il tipo di prestazioni che offrono a mio parere il peso ci sta. Come al solito iniziamo ad analizzare questi Mindel dalla loro suola, troviamo una suola Vibram con un ottimo grip, un tassello bello alto, soprattutto una costruzione, una forma di tasselli che ci aiutano anche a camminare su terreni particolarmente fangosi. Grazie poi alla parte in punta che è completamente chiusa, questa ci aiuta anche se dovessimo andare a camminare in punta su qualche roccetta. Che dire, questo tipo di suola mi ha convinto particolarmente, è abbastanza dura, non ha un compound morbido, quindi sulla roccia, soprattutto bagnata, stenta un pochino, ma per il resto è uno scarpone che può andar bene, diciamo, a 359 gradi. La roccia bagnata non è proprio il suo terreno ideale, però. Passiamo ora all'intersuola. Come vi dicevo, questo è uno scarpone a suola semirigida. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è così morbido come una scarpa da trekking che possiamo piegare, ma non è nemmeno super rigido come uno scarpone d'alpinismo. Per intenderci, io facendo un po' di pressione riesco un pochino a piegarlo, ma non troppo. Per quanto riguarda l'intersuola, troviamo un'intersuola non troppo alto, con un neva a doppia densità, e mi ha convinto particolarmente perché io ci ho fatto, se non ricordo male, una tappa da 25 km con un bel po' di dislivello, e a fine giornata non avevo il piede particolarmente stanco, quindi anche da questo punto di vista abbastanza promossi. Ma arriviamo alla parte più interessante di questi Mindel, che è sicuramente la costruzione della parte alta. Inizierei dal puntale, un puntale con un fascione in gomma super super protettivo, davvero potete prenderci dentro sia sul puntale che sul laterale qualsiasi tipo di sasso e radice e non avrete nessun dolore. Salendo troviamo una tomaia in pelle scamosciata, che dovrebbe garantire una buona traspirabilità, cosa che però non succede. La traspirabilità è, secondo me, il punto debole di questo scarpone. Vi assicuro che anche in giornate non particolarmente calde, in cui aveva anche piovuto, ho tirato fuori il piede da questo scarpone che era veramente molto molto sudato. Però, al contempo, ha una membrana Gore-Tex, che dire, che non ha nessun tipo di problema. Cioè, ci ho immerso il piede in un ruscello con grande portata e non è entrata nemmeno una goccia. Quindi, da questo punto di vista, sicuramente il Gore-Tex è sempre una garanzia. Salendo, però, arriviamo a parlare dell'allacciatura del sistema VarioFlex. Cos'è questo sistema VarioFlex? È praticamente un cordino che viene tirato, che parte dalla parte bassa dell'allacciatura e arriva da quest'altra parte e passa tutto attorno al tallone. E noi, andando a serrare con forza i nostri lacci, avremo un'allacciatura veramente molto confortevole e fasciante. Un'allacciatura in cui il piede non si muove per nulla. Un'allacciatura che ci permette di poter affrontare anche dei terreni particolarmente duri. E per il resto, tutta l'allacciatura, visto che ve ne stavo parlando, è molto interessante perché è un'allacciatura che arriva fino in punta. Infatti, l'ultimo occhiello praticamente è quasi a un centimetro dalla gomma protettiva del puntale. E avendo tutta questa struttura di occhielli, ci garantisce un'allacciatura complessiva davvero molto stabile. Il piede non si muoverà mai e grazie anche a questa allacciatura possiamo andare ad affrontare dei terreni particolarmente tecnici, come possono essere le vie ferrate. Torniamo però ora a parlare del tallone, visto che l'avevo accennato. È un tallone decisamente strutturato, decisamente rigido. È un tallone che ci evita, se siamo persone magari non molto esperte, di avere svirgolamenti o problemi di distorsioni. E cosa che bisogna sicuramente annotare è che è uno scarpone non mid, per intenderci. È uno scarpone che ci va a coprire con la parte di materiale fin sopra il malleolo, per intenderci quasi a fine gamba. È molto importante questo perché se non siamo particolarmente allenati a portare questo tipo di scarpone potrebbe darci qualche fastidio. In compenso però tutta la parte superiore è veramente molto morbida, molto imbottita e non dà nessun male. Io l'ho utilizzato per davvero tante ore. Un giorno, se lo ricordo male, ci ho fatto 12 ore di cammino e non mi ha dato nessun tipo di problema. Anche alla lunga non ho avuto punti di pressione, non ho avuto rossore. Davvero ho fatto molto molto bene. Infine vi parlo della linguetta. Questa decisamente spessa, decisamente imbottita, ma svolge un buon lavoro perché, oltre ad aiutarci a serrare il piede, non sentiamo minimamente la pressione dei lacci anche quando li tiriamo belli forti. Per quanto riguarda l'assoletta interna, questa mi ha particolarmente convinto. È di proprietà di Mindel. È estraibile, quindi volendo potete cambiarla, ma io ve la consiglio perché mi ha convinto, non ho avuto nessun tipo di problema. Arriviamo dunque alle conclusioni per questi Mindel tonali GTX. Ve lo consiglio come scarpone? Sì. Mi hanno convinto particolarmente. Sicuramente l'uso migliore è trekking particolarmente impegnativo, possono essere anche alte vie. Soprattutto le alte vie secondo me sono un ottimo banco di prova di questi scarponi perché hanno una suola, come dicevo, semirigida che possa aiutarci in caso avessimo trovare dei terreni particolarmente tecnici. E soprattutto grazie alla membrana in Gore-Tex, se dovessimo trovare qualche giorno pioggia, possono decisamente essere utili. Questo scarpone inoltre può andare bene anche per le ferrate. Molto consigliato anche per le ferrate. Ve lo sconsiglio per l'alpinismo. È uno scarpone, come dicevo, con suola semirigida, non rigida, quindi non è ramponabile. Per il resto, a che utente lo consiglio? Io eviterei se siete principianti, va bene se siete persone intermedie o esperte, a patto che abbiate già provato a portare delle suole semirigide, barra siete abituati a portare degli scarponi col collo abbastanza alto. Detto ciò ragazzi, io nella speranza di essere stato esaurante il sostivo anche per questo video, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!